Ti sei mai chiesto perché il tuo cane ti segue ovunque dentro casa anche in bagno? Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il problemico a quattro zampe. Nel video di oggi ti voglio spiegare del perché il tuo cane ti segue ovunque dentro casa anche nel bagno. Devi sapere che i cani sono animali sociali e in quanto tale hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo. In questo caso quel gruppo sarà composto da te e dagli altri componenti familiari che vivono insieme a lui. E questo determina che nel momento in cui il cane si sente parte di un gruppo, vuole vivere questo gruppo sempre a stretto contatto. E' da qui che nasce il motivo per il quale il tuo cane ti segue ovunque dentro casa. In altri casi quando questi comportamenti sono associati anche ad uno stato di irriquietezza da parte del cane e entriamo in una sfera disfunzionale, ovvero il cane che ci sta mostrando degli atteggiamenti ansiosi che potremmo definire ansia da separazione, ovvero un'ansia legata a quando la propria figura di riferimento si allontana. Se invece il tuo cane ti segue semplicemente negli spazi della casa in cui tu ti muovi per venire vicino a te e accucciarseli di fianco, allora non siamo davanti a un problema ma semplicemente un cane che vuole sempre stare a stretto contatto con te. E questo perché si sente parte di un gruppo e fa parte dei suoi bisogni primari. Fammi sapere se conoscevi questo tema nei commenti, ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like.